Le sue radici sono storiche, visto che le sementi antiche utilizzate hanno attraversato i secoli e sono arrivate fino ai giorni nostri. Così il cereale, prodotto esclusivamente nel territorio della provincia di Sondrio, viene poi trasformato in farina e impiegato nella produzione di un tipo di pane unico. Un progetto importantissimo, quello della segale 100% valtellina, che sta guadagnando sempre più terreno. La produzione è infatti passata dai 40 quintali del 2016, anno del debutto, ai 140 quintali ottenuti nel 2022. Si tratta di un progetto green varato dall'Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio, tramite l'associazione Panificatori e Pasticceri, attiva al suo interno, con la preziosa collaborazione di Coldiretti Sondrio. Sicuramente è importantissimo, innanzitutto perché comunque va a recuperare anche terreni che magari diversamente venivano abbandonati e quindi da questo punto di vista c'è un recupero ambientale. E poi è molto importante questo progetto perché va a valorizzare quello che è la segale autoctona, diciamo, valtellinese, creando quindi un valore aggiunto sia per l'agricoltore che per il consumatore, per i panificatori e quindi la filiera si chiude.